Stiamo erogando un corso sul ciclo passivo, in particolare sulla contabilità dei fornitori, un argomento molto importante perché traguarda la gestione e l'importanza dei costi aziendali. Daniela Giarola di Type Electronics, ho deciso di partecipare a questo corso per approfondire le mie conoscenze in ambito IVA, che di per sé è un argomento molto noioso, però il docente è talmente carino e simpatico che ci ha reso la mattinata decisamente piacevole.